non so voi ma io provo una specie di fastidio per l'abuso della parola amore da quando sono adolescente noto come essa venga impiegata per qualunque cosa dall'amore di dio all'amore per un giubbotto quando si parla di amore al giorno d'oggi non si capisce mai bene di che cosa si sta veramente parlando viene inflazionata da un uso smodato e spesso viene usata in modo totalmente inopportuno in un libricino molto interessante che fa parte di una serie ed è chiamato contro l'amore lo scrittore francese robert poulet esamina la differenza che c'è fra amore e passione che è uno dei grandi temi dei grandi problemi della nostra epoca ancora figlia dell'età romantica l'amore e la passione in realtà sono due cose diverse che a volte si incontrano e a volte no infatti a volte abbiamo un amore passionale a volte una passione senza amore e anche ovviamente un amore senza passione insomma quante coppie scoppiano perché dicono che dopo tanti anni non c'è più passione e non è strano che non ci sia più perché lascia spazio dopo tanto tempo ad altro la passione è una forza distruttiva non si può vivere continuamente dentro una tempesta e così queste persone legano inestricabilmente amore e passione e così anche si condanna l'amore stesso al quasi sicuro fallimento ma se la passione può essere un elemento temporaneo nell'amore ci deve essere certamente non lo esaurisce dicevo prima dell'inflazione che ha colpito questa parola come sapete in inglese amore si dice love mi ha sempre colpito vedere come loro specie gli americani usano questa parola anche come saluto i messaggi diretti ad amici non solo a persone con cui si è sentimentamente coinvolti noi non scriveremo alla fine di un messaggio con amore se questo è diretto ad un amico o amica perché sappiamo che sarebbe troppo facile essere equivocati gli americani invece a me sembra annacquano il senso di questa parola depotenziandola in fondo è un loro modo di esprimersi usano parole che a noi suonerebbero esagerate perché hanno forse perso un certo senso della misura verbale tutto è wonderful terrific amazing parole che noi usiamo soltanto in occasioni particolari mentre loro ci infiorettano ogni discorso l'amore quando autentico richiede disciplina ed abnegazione è un processo di avvicinamento a qualcosa o qualcuno che implica tanti fallimenti cadute passi indietro se è vero che non possiamo fare a meno di amare dobbiamo accettare che in queste rose ci sono delle spine l'atto di amare è proprio nell'offrirsi con tutta la propria fragilità e sapere rischiare sapendo che si deve soffrire chi crede pensa che l'amore più grande è quello di dio che ha dato in sacrificio il suo unico figlio per la nostra redenzione amare è offrire e soffrire come ho detto all'inizio rimango interdetto dall'uso improprio che si fa di certe parole importanti nella nostra lingua mi sembra che amore sia forse una delle più importanti che hanno questo uso improprio ma pensiamo anche ad amicizia screditata dal suo uso nei social media specialmente su facebook dovremmo tornare a considerare il senso profondo delle parole che usiamo perché questo senso profondo ci permette di andare dentro la loro etimologia e di coglierne l'origine e soprattutto la loro direzione il linguaggio non dimentichiamocelo è potere